Buongiorno a tutti, allora, 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 proseguiamo dopo il campionato inglese con la sfidona libidine, passiamo al campionato spagnolo che parte oggi con Valencia-Getafe. Partita interessante, Valencia favorito, ma un bel 1x è meglio, Cadice-Atletico Madrid, allora, l'Atletico Madrid è favorito, però c'è la gara di ritorno con l'Inter, mercoledì, quindi non vorrei che nella testa ci hanno in mente la gara con l'Inter, la classifica, tanto allo Scudetto non ci pensano, il terzo posto è però un po' a rischio, però il campionato è ancora lungo, quindi un pareggio a Cadice, e quindi vado di x2 perché nell'Atletico non si sa mai. Granada, Real Sociedad, x2, anche qua, non mi fido troppo, anche se ormai la Real Sociedad è fuori dalla coppa, però potrebbe anche risentire della stanchezza della gara che hanno fatto contro il Paris Saint Germain, risentire del fatto che ci speravano invece è andata come è andata, x2, Girona o Susanna, 1, anche se attenzione all'Usasunia che è squadra pazza, capace di andare a vincere col Girona, può perdere 3-0 come è capace di andare a vincere col Girona, perché dall'Usasunia mi aspetto di tutto, gioca con l'ultima in classifica in casa, pareggio perde, va a giocare contro la seconda in classifica e magari porta a casa un pareggio, vince, però la quota è 1,58, o rischi l'X2, ma è un rischione, o vai di 1 secco, quindi 1 secco, Alaves Rayo Vallecano, 1X, Las Palmas Atletico Bilbao, x2, x2 perché, scusate, mi stop un attimo, scusate, dovevo starnutire, non mi andava di far vedere lo starnutire in diretta, quindi ho stoppato un attimo, non stavamo dicendo, Las Palmas Atletico Bilbao, x2, anche perché la quota me lo consente quasi a 2, quindi, Real Madrid-Saltavigo 1, Real Betis-Villareal, altra partita da aiuto aiuto, arriva il lupo, il lupone, il Villareal sta anche giocando bene, faccio come Mosconi, senza tirarne giù qualche parolina poco simpatica, 1-2 ragazzi, 1-2 perché questa è una partita tosta, tosta. Infine, Almeria-Siviglia, allora, l'Almeria sta onorando il suo campionato, però per il Siviglia questa è l'occasione per fare quei tre punti che probabilmente la toglierebbero definitivamente dalla zona pericolo. Ma hai visto e considerato che il pareggio non serve a una beata Giovanna né a uno né all'altra? 1-2. Beh, l'Almeria, ragazzi miei, qualche pareggiotto lo sta portando a casa anche inaspettato, sta onorando il campionato il più possibile, anche se ormai è chiaramente condannata alla retrocessione, però in qualche partita diciamo che ha mollato, perdendo nettamente. Altre partite invece è andata in campo e ha tirato fuori lo Scoiones, come direbbe il buon Simeone, e quindi ha portato a casa dei pareggi inaspettati. Andiamo alla schedina alternativa, partendo da Valencia-Ghetafe, over 2.5, a mio rischio e pericolo dato a 2.55, sarebbe più giusto l'Under, ma io come sento la parola Under mi sento male, quindi non ce la faccio. Però sulla carta l'Under 2.5 è strafavorito. Cadice e Atletico Madrid, gol a 1.95, anche qui a mio rischio e pericolo, perché sapete che il campionato spagnolo è un po' parco di reti. Granada-Real Sociedad, anche qui vado di gol a 2.15, sempre a mio rischio e pericolo. Girona o Susanna? Over 2.5 a 1.68, perché temo, 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 temo che lo Zasugna romperà abbastanza i Maroni al Girona, che sarà costretto a fare due gol per vincere, quindi 2 a 1 come risultato finale. La butto lì, eh. Alaves-Rayo-Vallecano, anche qua vado di gol data a 2.10. La Spalmas-Atletic-Bilbao, anche qui gol data a 1.90. Real Madrid-Seltavigo, over 2.5 data a 1.50. Ci sta. Real Madrid-Seltavigo, qua vado di combo, perché secondo me qua viene fuori un bel partitone divertente, che per chi non è interessato e guarda la partita per il piacere di vedere la partita, ma non è tifoso, si divertirà parecchio. I tifosi di Real Madrid-Seltavigo e Villareale, meglio se prendono un cardiotonico, perché non vorrei che spam, perché sarà una partita al cardiopalma, secondo me. Poi, oh, magari termina 0 a 0, una merdata, eh, vabbè. Comunque gol data a... Aiuto. Qua. 2.25. No, 2. Eccolo qui. No, ho sbagliato, perché sono dalla parte sbagliata, ho detto gol, ero finito nella parte sbagliata. Gol dato a 1.57, che infatti anche i bookmaker la pensano come il gigione, e sarà una partita bella, divertente, stranamente, stranamente perché solitamente vanno di handa per queste partite qua. Concludiamo, concludiamo con Alberia-Siviglia. E qui vado di over 2.5 a 1.85, perché secondo me... Un gol o un over 2.5, in ogni caso, minimo 1-1. Ve lo dico subito, minimo 1-1. Poi una delle due magari fa un gol in più. Ma secondo me Alberia-Siviglia è un over 1.5 secco, sicuro. Poi non esce e mi direte, eh Gigi, hai visto Alberia-Siviglia 0-0, che schifo. Io mi butto lì un bello over 2.5 o un gol a vostra discrezione. Poi, vedete voi. Bene, bello, rapido, preciso, felice e contento. In 8 minuti vi ho fatto tutto, così almeno non mi dite che sono prolisse. Ma anche lì, no. Il Gigione non gli piace fare dei video che durano meno di 10 minuti. È sbagliato. Perché invece a voi piacciono i video corti. Poi c'è quello che invece mi dice, Gigi, perché li fai così corti? 20 minuti sono troppo pochi. Quando faccio le news e con news a chi piacciono, no? Perché c'è anche qualcuno a cui... Le news e le cold news piacciono. A proposito, ho già preparato una sessantina di news. Ho già preparato le cold news per il futuro. Poi comunque ne ho 960, più o meno, da fare ancora da ottobre dell'anno scorso fino a settembre. Anzi, fino ad agosto. Perché poi ho fatto una cartella di settembre. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, sono a posto, però devo aggiungerne delle altre. Perché poi, dopo il tempo per prepararle, è sempre meno. Anche perché avrò un solo giorno libero alla settimana, che poi diventano zero. Dall'estate in poi diventano zero, fino a settembre. Poi a settembre riavremo il giorno libero. Spero, eh. Scusate il mio raffreddore. Detto questo, ragazzoli, mi sono dilungato di nuovo troppo. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Tanto le dritte sulle gare del campionato spagnolo ve le ho date. Come vi dico sempre, usate la vostra testa. Ciao! Ciao!